La Regione Calabria istituisca al più presto il reddito di cittadinanza regionale come misura di inclusione attiva a sostegno al reddito dei nuclei familiari esposti al rischio di povertà e marginazione. E questo è il messaggio rivolto dal sindaco di Canzaro Nicola Fiorita al presidente della Regione Roberto Occhiuto e al presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso ma anche i capigruppo consigliari di Palazzo Campanella. In Calabria c'è una bomba sociale che va disinnescata finché si è in tempo ci sono più di 30.000 nuclei familiari, ricorda Fiorita, già percettori del reddito di cittadinanza e ora esclusi dalle nuove norme che stanno precipitando nel precipizio della povertà più assoluta. È una battaglia, dice Fiorita, che sta avvedendo in queste settimane un rifiorire di iniziative a livello di singole regioni e che sta attraversando trasversalmente tutto lo schieramento politico. Accanto ad una proposta di legge del gruppo 5 Stelle nel Consiglio regionale della Campania si registra un'analoga iniziativa nell'Assemblea siciliana proposta da Forza Italia. Anche le regioni Sardegna e Puglia, aggiunge ancora Fiorita, si stanno dotando di strumenti per dare una risposta forte a questa esigenza di giustizia sociale. Entrambe le proposte prevedono la stipola di protocolli di intesa tra le imprese e le regioni con la disponibilità di coprire con l'assegno pubblico una parte dello stipendio se le aziende assumono i percettori utilizzando le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La proposta di legge presentata dal Consigliere Raffaele Mammoliti, già incardinata nelle commissioni Prosegue Fiorita, può essere una base su cui costruire un'originale legge che non punti solo alla mera assistenza per i nuclei bisognosi, ma all'inserimento nel mondo del lavoro e della produzione per coloro che attraverso la formazione sono occupabili.